Buongiorno a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, ben ritrovati. Manca un giorno alla partita al derby, alla partita molto sentita tra Milan e Inter. Partiamo dalle probabili formazioni che scenderanno in campo domani sera. Il Milan dovrebbe scendere in campo sempre col consueto 4-2-3-1, con Dottada Ruggiano in porta, con Calabria, Kier, Tomori, Baioture in difesa, Kessy e Tonali davanti alla difesa, davanti come mediani, Saleme Kerr, Brahim Diaz, Raffaele Ao e unica punta Ibra Imovic. Inter dovrebbe schierarsi sempre col consueto 3-5-2, prima Contiano, adesso Alnatia Simoninzaghi, con Andanovic, Skriniar, De Vrij Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic e Lex Ciaranoglu, Perisic e poi l'attaccanti Lautaro Martinez e Dzeko. Il Milan nelle ultime 5 partite arriva da 5 vittorie, ha conquistato 15 punti, ha vinto contro la Roma, l'ultima partita ha vinto contro il Torino, contro il Bologna, contro l'Ellas Verona e contro l'Atalanta. Il Milan ha voglia di continuare a vincere, di continuare ad allungare sulle concorrenti, e ha più 16 sulla Juve e ha più 7 sull'Inter e per l'appunto una vittoria nel derby e magari un passo falso ulteriore della Juve contro la Fiorentina, attenzione a non sottovalutare la partita tra Fiorentina e Juventus, il Milan potrebbe in qualche modo sognare in grande, e in qualche modo allontanare due delle grandi rivali per lo scudetto e in qualche modo anche blindare sempre più la zona Champions League. È vero, siamo all'inizio del campionato, ma recuperare 19 punti e 10 sarebbe sicuramente una situazione molto, molto complessa. Il Inter nelle ultime 5 partite ha conquistato 10 punti, ha vinto contro l'Udinese, contro l'Empoli, contro lo Sassuola, ha pareggiato contro la Juventus e ha perso contro la Lazio. Il Milan insieme a Napoli ha il miglior rendimento interno del campionato, infatti in casa ha conquistato 15 punti e al secondo attacco del campionato con 25 gol fatti e alla seconda difesa del campionato con solo 10 gol subiti. I migliori marcatori del Milan sono Giroud e Raffaele Aou, entrambi con 4 reti a testa. L'Inter invece ha il terzo rendimento esterno del campionato d'Inter, ha conquistato 13 punti in trasferta, si gioca a San Siro ma l'Inter è fuori casa. L'Inter ha però il miglior attacco del campionato con 28 gol fatti insieme alla Roma la quarta difesa con 12 gol subiti. Attenzione perché il miglior marcatore dell'Inter è Edin Dzeko che ha segnato 7 reti e soprattutto l'Inter è la squadra che ha affittato più assist, 20, ben 20, con... e soprattutto la squadra più pericolosa perché si è proposta davanti con 66 cross e 8 gol di testa. Quindi le pari inattive, lo sappiamo come l'Inter sia una squadra molto fisica, attenzione ad Ambrosio, che subentra molto spesso, attenzione ad Armian, attenzione a Skrini, attenzione a De Vrij, bastoni. Giocatori molto fisici e di Dzeko che sono veramente molto molto pericolosi. La partita sarà visibile e esclusiva su Dazon, quindi tutti i fan, tutti quelli che vorranno vedere la partita sarà visibile esclusivamente su Dazon purtroppo perché io lo dico e l'ho già detto varie volte, preferivo il servizio offerto da Sky. E attenzione soprattutto a un giocatore, un giocatore che ha appena rinnovato con l'Inter, faremo un video nella giornata anche sulle questioni rinnovi e il parallelo Milan-Inter, attenzione perché uno dei giocatori più in forma dell'Inter è proprio Nicolò Barella. Finora in questa stagione ha qualizzato complessivamente 15 presenze, ha giocato 1.297 minuti, ha realizzato un gol e ha servito 6 assist, quindi nella zona offensiva il giocatore che serve assist è Barella, quindi Barella dovrà essere bravo il centrocampo rosso-nero tra Kessy e Tonali e soprattutto anche Brahim Diaz in qualche modo a limitare le giocate di Nicolò Barella, un centrocampista che a me è sempre piaciuto perché abbina qualità, quantità, intensità ed è un giocatore davvero, davvero importante. In Serie A ha una percentuale di passaggi molto alta, circa l'84% e ha una percentuale di contrasti vinti altissima, 87% e soprattutto nei duelli vinti al 60%, quindi è un giocatore davvero molto decisivo, un giocatore che se viene limitato in qualche modo l'Inter ne risente, quindi noi abbiamo in qualche modo identificato proprio in Nicolò Barella il giocatore da tenere d'occhio maggiormente e il giocatore da cui nascono e possono nascere i pericoli da parte della squadra nata di Simone Inzaghi. Siamo fiduciosi, abbiamo grande voglia di assistere al derby, vogliamo vedere un Milan Gagliardo, un Milan is on fire, un Milan infuocato, un Milan indiavolato, un Milan pronto in qualche modo a incendiare San Siro e un Milan pronto a prendersi ancora di più la scena di questa Serie A. E come sempre se vi è piaciuto questo video vi chiediamo di mettere mi piace, di condividerlo, di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera.